Salve cari amici, sono Luco Cornelio Benone, pastore delle Ciglie Cristiane Adventiste e vorrei lasciarvi il mio augurio di Natale. Natale è sempre un tempo di magia, di sogno. Ritorniamo al tempo dell'infanzia e realizziamo un po' in questo tempo i stessi desideri. Il mio augurio è di vivere questo Natale in modo diverso. Che questo Natale faccia avverare i vostri desideri, ma soprattutto che vi porta al più bello e grande incontro della vostra vita, l'incontro con il bambino mio, il figlio di Dio. Vi auguro che lui possa rinascere questo Natale nella vostra vita e cambiarlo per sempre. Grazie a tutti.